Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, ieri sono stati annunciati in modo non ufficiale, visto che l'equipe li ha lanciati, i tre nomi e i tre finalisti per il Panadoro. Che ve li dico subito? Due francesi, Van Bappé, e un croato, Modric, Luca Modric. Ovviamente, molte polemiche. Come sempre, ogni anno il Panadoro porta solo con sé polemiche. Bisogna mettere insieme un po' di presupposti, prima di iniziare a parlare di quello che ha la mia idea, di chi avrà messo, di chi non avrà messo, e così via, di chi lo vincerà e chi non lo vincerà. Innanzitutto è un premio che si basa su dei criteri. Si dovrebbe basare su dei criteri, fate attenzione. Ve li dico perché questi criteri qua sono importanti per poi quella che sarà la mia analisi e perché questi criteri, talvolta, per quanti sono scritti in qualche parte, non vengono in nessun modo rispettati. Primo, insieme delle prestazioni individuali di squadra durante l'anno presa in considerazione. Quindi mettono insieme come criterio il singolo, ma nella squadra. Quindi il singolo rapportato alla squadra, il peso specifico del singolo nella squadra. Valore del giocatore, inteso come talento e fair play, cosa che credo che è stata introdata poco, visto quanto si parla di fair play. Terzo punto, la carriera, quindi di per sé il giocatore chi è, chi è stato, che è quindi un criterio che dovrebbe mettere in chiaro l'importanza di quel giocatore per questo premio. E infine personalità, carisma, quindi un discorso puramente mentale, psicologico, della testa, che niente a che fare con prestazioni e così via. Ora, questi sono i criteri, ma come sappiamo, talvolta i criteri sembra quasi che non vengano in qualche modo confermati da quello che è la realtà. Beh, chiaramente ovviamente i criteri sì ci sono, ma è anche un fatto che ognuno, o meglio chi decide di portare avanti questo discorso qua, non decide secondo criterio, comunque interpreta solitivamente questi criteri. Quindi chiaramente le mie idee potrebbero essere diverse, nonostante i criteri, siano i medesimi di chi decide insieme a me. Però chiaramente questo è un discorso. Un altro presupposto, l'arco temporale che comprende questo premio è di per sé un'incoerenza. Parlare del calcio di anno solare è sbagliato. Perché è sbagliato? Le stesse società sportive, molte volte, quasi tutte le società sportive, redigono il bilancio secondo quello che è l'anno calcistico. Perché non ha senso redigere un bilancio in un anno solare, come fanno invece molte altre società non calcistiche. Perché chiaramente il calcio, un po' come quando andata a scuola, si ragiona in anno scolastico, in anno calcistico. Quindi sinistra settembre si finisce a giugno senza competizioni estive nazionali e in questo caso a luglio, come quest'anno appunto, come gli anni pari. Questa cosa qua è molto importante da dire, secondo me è l'unico vero problema di questa competizione. Perché effettivamente non si dà mai risalto all'anno solare così per intero. Cioè è un premio basato sull'anno solare, ma che non tiene mai nessun modo conto dell'anno solare. Perché io voglio che un premio, cioè sarebbe giusto che un premio, andasse a quello che in 12 mesi, non dico 12, ma comunque 10, tolta la pausa estiva, faccia determinate cose. Invece talvolta le liste già iniziano a essere diramate, beh adesso per voi finalisti adesso, che siamo a metà novembre, il 20 novembre, ma le liste dei primi 30 e così, già si sapevano da ottobre, quindi chiaramente a due mesi dalla fine dell'anno. Se poi togliamo questi, altri due mesi che sono quelli della pausa estiva, praticamente un premio basato su otto mesi. otto mesi che si dividono tra 5 e 6 mesi di una stagione, che è quella che poi è molto importante rispetto a quella che è la decisione finale. E due o tre mesi, che sono i due o tre mesi da settembre in poi, che sinceramente valutare un giocatore in base a quei due o tre mesi, tenendo conto che in quei tre mesi il giocatore probabilmente potrà fare delle prestazioni totalmente diverse da quelle fatte fino a giugno, per discorsi fisici prima di tutto, è di per sé già un'incoerenza, è un problema di per sé del premio. Quindi il problema del premio è che ha delle lacune di base come proprio tipo di premio, nel senso che è diversamente da quanto viene fatto per il UEFA Best Men, insomma quello che ha vinto Modric poco tempo fa, e quello appunto racchiude l'anno calcistico e non solare, che è molto più importante. E quindi anche France Football, visto che il Pornandoro è di France Football, visto che prima era comunito con quello FIFA, ma adesso sono divisi, tutti i premi individuali dovrebbero essere dati alla fine di qualcosa, quindi alla fine di una stagione, alla fine di una competizione e non alla fine di un anno che non c'entra nulla, nulla a che fare l'anno con quella che è la prestazione, la continuità di prestazione di un giocatore. Quindi per sé già è un problema questo. Però perché si parla ancora di Pornandoro? Perché il Pornandoro ha quel suo fascino storico, viene dato da praticamente 60 anni, dal 1956, è un premio quindi che è molto storico, molto a livello mediatico pompato, è un premio sentito molto a livello mediatico, perché per quanto noi diciamo è un premio farlocco, è un premio fasullo che non dà merito a chi deve veramente meritare questo premio, alla fine ne parliamo sempre. Vuol dire che siamo interessati alla cosa pur dicendo che non siamo interessati. Quindi il fatto di parlarne è perché questo premio alla fine, per quanto sia fasullo o farlocco, quello che volete, in effetti non sembra da merito a chi veramente deve meritare, però è un premio che interessa. E a livello mediatico interessa. Quindi a livello mediatico interessa anche che vengano dati certi nomi, piuttosto che altri, fregandosene anche in parte di quelli che sono i criteri oggettivi e cercando anche di sentire un po' quello che... un po' andare un po' come va il vento, perché chiaramente i nomi che sono stati messi in questi tre finalisti sono nomi altisonanti in questo preciso momento. E non sbaglierei a dire, sarei veramente poco corrente con me stesso, se dicessi che questa è la prima volta che sbagliamo, che sbagliano a fare queste decisioni di questo Palen d'Oro. Perché negli ultimi anni, a prescindere dal fatto che Ronaldo gioca adesso per la Juve, negli ultimi anni i 5 valendori da Ronaldo e i 5 messi, secondo me, nel mio parere, e lo penso ancora, non erano meritati. O meglio, non tutti e cinque. Io penso che più o meno 3-4 a testa e non di più. E sapete benissimo che voi, quali premi toglierei a questi due giocatori? Toglierei il premio del 2010, il premio del 2012, non mi ricordo che fosse stato segnato, fosse a Messi, e un altro degli ultimi anni di Ronaldo. Quindi, praticamente direi 4 Ronaldo e 3 messi? Secondo la mia visione, sì, poi chiaramente, però ovviamente le opinioni sono discordanti, quindi alla fine la verità assoluta non si ha. Però voglio tornare su quelli che sono i tre nomi. Intanto perché hanno vinto questi qua. Hanno vinto, hanno aggiunto la finale. Partiamo al primo, Modric. Modric è un giocatore simbolo della Croazia finalista, che non si sa come è arrivata in finale, ne so che si sa, ne so che ha avuto molto merito, però chiaramente una Croazia, che è una squadra buona, ma niente di più, è arrivata in finale mondiale, e quindi questa cosa ha veramente dato beneficio a Modric. Il quale, insomma, questo discorso, ha quello da sempre. Slig ha vinto Bappé. Bappé è il giocatore più mediatico del momento. È il Neymar di 2-3 anni fa. È il Ronaldo e Messi degli ultimi 10 anni. È il giocatore che ha portato la Francia a vincere mondiali. Non è stato solo lui, però è stato sicuramente molto incisivo, seppur non continuo, ma contando l'età solo 20 anni, quindi 20 anni, vince il mondiale, ricordano giocatori di altri passati, che ricordano Ronaldo e il Fenomeno, ricordano I.T.N.R.I.N.R.I., questi giocatori qua che hanno portato veramente molto, in età giovane, alle loro rispettive nazionali. Quindi Bappé è stato inserito anche per un discorso mediatico, perché tutto il problema d'ora è un discorso mediatico. Non è un discorso di complotti o quant'altro, ma un discorso che certi giocatori passano nelle menti di chi decide in modo diverso, pur non avendo magari meriti oggettivi sui dati statistici. E infine Varane. Varane, secondo me è un discorso più francese, ricordiamoci che France Football è un premio francese, la Francia è il campione del mondo. Vogliono replicare in parte, secondo me, quello che è stata cosa? Quello che ha fatto l'Italia qualche anno fa, quando l'Italia era al top, quando l'Italia vinse il mondiale. Mandò Cannavaro e Buffon, tra i primi tre. Due giocatori che per carità meritavano entrambi, però chiaramente il Cannavaro è visto un po' come il simbolo di difensore, quindi non centrocampista attaccante, che è talmente forte, ed è quasi un modo per dimostrare che anche i difensori possono ambire a questo premio. Un po' come il Neuer 2014, tutti sono infischiati di questo Neuer, perché alla fine non ha vinto, però lo mettiamo, perché è vero il portiere è più figo, in effetti, cavolo, il portiere, nessuno ci è mai andato, tranne Buffon appunto e appunto Neuer, e quindi la Germania vincitrice del mondiale, è più interessante mettere Neuer, così come è interessante mettere Varane, ma non perché Varane effettivamente ambisca questo premio, perché alla fine non lo vincerà, e non perché effettivamente meriti di stare da questi tre. Nulla a che vedere con Varane, Varane è un difensore molto forte, che mi piace molto anche a me, però da qui a mettere da primi tre, per i motivi che ho detto prima, ce ne passa. Detto questo, io però ho detto, allora guardiamo questi criteri qua, applichiamo questi criteri secondo quelle che sono le mie opinioni, ma comunque cercando di rimanere in un frangente di oggettività, comunque, certo è soggettiva anche la mia opinione, però è anche vero che perlomeno mi sono basato sui criteri, che secondo me non vengono in suo modo rispettati, da chi poi decide veramente, non io. E mi sono scritto un po' di cose, mi sono messo i quattro parametri, confrontando i tre finalisti, e aggiungendo due nomi che secondo me, dovevano andare di sicuro perlomeno dentro, o comunque potevano giocarsi queste tre posizioni, che sono Griezmann e Ronaldo. Ok, andiamo per ordine, Mbappé, cosa ha vinto? Quindi primo criterio, ha vinto il mondiale e basta. Per un club, nulla di che. Poi, valore di giocatore come talento, ha talento, e in effetti il talento gli va riconosciuto, quindi giovanità, ha talento, ci sta benissimo. Carriera, non pervenuta, non è a vent'anni, in carriera che abbia avuto, quindi non è un criterio a favore suo. Infine, personalità e carisma, non credo che sia giusto dargliela, in un momento in cui, ha vent'anni comunque, cioè, lui fa parte di un ingranaggio, quello carismatico, quello trascinatore e così via. Giocatore talentuoso e basta, ma di talento e basta, tecnico, fisico e così via. Quindi, due punti su quattro, molto positivi. Varane, ha vinto tanto, primo criterio molto buono, perché ha vinto il mondiale e il Champions, quindi questo veramente, lo fa pesare moltissimo. Talento, sì, ne ha, è un difensore, ma non vuol dire che non abbia talento. Carriera e personalità e carisma, non mi sento di reale, sì, Carriera ha vinto con il Madrid, però, è anche da subentrante, un po' alla volta, cioè, insomma, non è titolarissimo sempre, poi c'è, l'ho diventato, chiaramente con Zidane, però, non è che aveva una carriera, comunque molto breve, stiamo valutando, veramente, su due o tre anni, la carriera di Varane, mi pare un po' pochino, per dare un punto a favore, forte, come carriera. Infine, personalità e carisma, credo che nella coppia della Madrid, quello con personalità e carisma, per quanto è antipatico, che sia Ramos, così come comunque, non va dimenticato che in Francia, c'è anche un DT, che secondo me, è un buonissimo difensore. Modric, primo punto, finalista mondiale, e Champions League, quindi, è sicuramente, ha un buon punto, è un buon punto a favore. Valore giocatore, talento, ne ha tantissimo, per play anche, un giocatore che, se sempre contro distinto, fa essere un giocatore silenzioso, che non fa problemi, è sicuramente un giocatore, modello, ecco, quindi non dissonante, però, appunto per questo, secondo me, è un giocatore che va veramente, che merita anche, qualcosa di più del talento puro. Carriera, ok, beh, carriera, a me, 33 anni, ha una carriera molto lunga, e molto, molto vincente, e personalità carisma, sì, credo che all'interno della Croazia, sia, l'uomo di punta, anche per questo discorso qua. Io, questi quattro punti, e Modrici, li do tutti, quindi, secondo me, Modrici, è indiscutibilmente, il giocatore che più meritava, questo, questo podio qua. Griezmann, quello escluso, vittorio personali, con la squadra, mondiale, Europa League, eh, qui pesa molto, Europa League, un po' meno dal Champions, però comunque, più di quello che ha vinto Mbappé, con un mondiale, ad esempio, ecco, talento, sì, ma ne ha, chiaramente, mi sembra un giocatore per bene, carriera, ne ha, carriera è un giocatore comunque che ha 25, 26, anzi, forse anche 27 di anni, che con l'Atletico Madrid, ha visto delle finali, quindi comunque una carriera, ad altri livelli sempre, credo che gli ultimi anni sia, secondo me, la seconda punta, o esterna, più forte, che ci sia, dopo i soliti nomi, i soliti che sappiamo, quindi ok, personalità carisma, non l'ho messo semplicemente perché non lo vedo come l'uomo di punta in tutte le squadre di cui gioca, ci sono anche due altri, molti uomini, anche l'Atletico Madrid, molto, molto tosti a livello di personalità, in Francia comunque, la Francia è una squadra secondo me molto peraia, rispetto a quello che potrebbe essere le altre squadre, quindi però alla fine, mi sembra che lo escludo, ma comunque ha 3 punti su 4, e infine Ronaldo, Ronaldo che secondo me ha tutti i 4 punti per questo motivo, vince la Champions, che è solo la Champions, ha talento, Prepello lasciamo anche fuori, ma il talento ce l'ha, carriera non ne parliamo, e persone di carisma non ne parliamo, secondo questi criteri, i due che è assolutamente non dare in questi tre finalisti, secondo i criteri, quindi basandosi sui criteri, se qualcuno finalmente si basasse sui criteri, sono Modric e Ronaldo, infine, Modric e Ronaldo più un terzo, un terzo che deve essere per forza uno tra Mappé e Griezmann, quindi comunque valorizzare un francese in ogni caso, che sarebbe quindi un francese, uno della Champions, e uno per anche la carriera e così via, in questo caso avrei messo anche, va bene anche Mappé, per carità del signore, o Mappé o Griezmann, non importa, perché in ogni caso, secondo i criteri, a vincerlo dovrebbe essere Modric, direi, e quindi essendo secondo me, Modric e dovevano vincere, che tu metta Mappé o Griezmann cambia poco, ciò che fa discutere è l'esclusione di Ronaldo, perché questi criteri qua lo confermano, almeno per quanto riguarda il mio parere, però è anche vero che non può escludere Ronaldo dopo quello che ha vinto, quello che ha fatto in questo anno solare, ricordiamoci. Il problema quindi di pensare Varane, ma non Varane per sé, bovretto, non ha proprio nessuna colpa, ma il fatto che l'abbiano messo, e l'hanno messo più, come detto prima, per una simbologia della Francia, il difensore e così via, e non per un merito effettivo del giocatore, e scluderanno quindi che quello che secondo me è Ronaldo, ma comunque scluderanno anche lo stesso Griezmann, se proprio vogliamo mettere un francese, quindi è lì che secondo me è strido un po' tutto il discorso. Come ho detto prima, i criteri ci sono, ma secondo me non vengono mai in nessun modo tenuti da conto, cioè mai, altrimenti veramente in questi ultimi 10 anni non avremmo avuto quello che non ho visto, perché secondo me gli ultimi 10 anni, secondo questi criteri, l'anno dell'Inter che ha vinto la Champions League doveva pesare molto un millitro, uno Schneider, nel 2012 doveva pesare molto un Iniesta ad esempio, e invece non è successo evidentemente, facendo non vincere altri, quindi i criteri sono lì giusto per cercare di spiegare qualcosa. Ecco quindi si va a confermare solo che questo premio qua si basa sostanzialmente su due punti, quello che vinci, ma soprattutto se vinci qualcosa, deve essere anche un giocatore che in quel momento preciso, a livello mediatico, quello che volete, è importante a un certo punto specifico, quindi non solo discorsi statistici e così via, ma il fatto che ci sia molto interesse in cerchio del giocatore, è il caso di Modric, perché la Croazia, cavolo, non è successo, è un po' il summer del 98, lo è Bappé in questo caso, perché in Bappé è il giocatore della rivelazione, ha 20 anni, che fa devasto tutte le parti, vince con la Francia, e infine appunto è Varane per questa simbologia, quindi si vinci, però è difensore, è un po' il canavaro francese. Ecco quindi un po' si spiegano così le decisioni, le decisioni che secondo me però sono parziali e non totalmente giuste, secondo me quindi avrei visto veramente, se proprio vogliamo lasciare Bappé, insomma, di questi tre, escludere almeno Varane e mettere Ronaldo, o perlomeno Griezmann, quindi non è discorso tanto che hanno escluso Ronaldo, perché la Juve, perché io avrei veramente tolto dei poli d'oro a Ronaldo e Messi negli anni passati, quindi non cambia il cerchio quella cosa che lascia per la Juve, però chiaramente, Messi così, insomma, c'è un po' da discutere. Bisogna vedere poi se nella classifica finale, quando erano gli ordini dei primi dieci, questi Ronaldo e Griezmann dove li mettono, perché spero perlomeno che Ronaldo mettono quarto a questo punto, quinto, comunque tenendo questi cinque come i primi cinque a questo punto, ma vediamo, insomma. Detto questo, ovviamente, il palone d'oro, come detto sempre, tutti lo snobbano, dicevano che è un premio a farloco, ma tutti ne discutono, vuol dire che alla fine un po' di interesse c'è. E' lo suo interesse che ricercano, mettendo questi nomi qua. Quindi quando dico che il palone d'oro è un premio mediatico, è sostanzialmente la verità, perché poi alla fine per mediatico intendo che il premio viene dato, comunque i finalisti vengono scelti in base anche a quello che gli interesse medio, medio, ripeto, circa questi giocatori. E talvolta, al di là del discorso di parte, più lentini o meno, a livello internazionale, i giocatori che hanno vinto un mondiale e che si sono anche contraddistinti per qualche altra vittoria, tipo la cinematografia e così via, sono molti più interessanti di altri che magari hanno più meriti adatti alla mano. Tutto qua. Ovviamente a questo punto spero che lo vinca Modric, perché di questi effettivamente, di questi tre, forse è meglio che lo vinca lui rispetto alle altre due. Detto questo, parlando di Ronaldo, la vera ingiustizia di Ronaldo non è stata vincere, secondo me, il UEFA Best Man Player, come si dice, quello della UEFA, che l'ha vinto Modric, perché lì, il peso specifico di Ronaldo, solo per le competizioni UEFA, era molto meglio rispetto a quello di Modric. Modric è un mondiale che di tutto rispetto, che gli va dato veramente atto. Però in cui vado a ribadire, è quello che è la discrepanza tra il fatto che sia un premio stagionale e un premio annuale, che non ha senso di esistere un premio annuale, perché come ho detto prima, nessuno di voi, quelli che vanno a scuola, che sono alle superiori, viene valutato con una pagina alla fine anno solare. Cioè, che senso avrebbe valutare metà quarta, metà quinta superiore? Non ha senso. Quindi è per quello che dico che non ha senso questo premio, come concetto di base, poi possiamo metterci tutte altre polemiche. Ma di passare un premio, ma dato sulla stagione, perché il calcio ragiona stagioni. Probabilmente c'è un piccolo divario temporale, nel momento in cui c'è la competizione estiva, o non c'è. Nelle dispari, fai le premazioni a luglio, giugno-luglio, e quando agli anni pari, con la competizione internazionale, la fai agosto-settembre. Tutto là, finito. Magari non sopponendosi a quelli, agli altri premi, UEFA, FIFA, verba. Però, ragazzi, questo è un problema di base, che va a sminuire, il vero problema di questo premio, è proprio questo. Il discorso temporale. Che va a sminuire veramente il premio. Quindi, già di per sé, questa è la prima cosa da vedere, al di là delle polemiche, su chi mette lo che non mette. Veramente, questa è la cosa che mi dà più fastidio, perché non ha senso valutare sull'anno solare, anche perché, da una parte, chi valuta, si ricorda di quello che ha fatto, fino a dicembre, dalla prima non dovrebbe nessun modo tenerne conto, dall'altra va a sminuire quelli che sono gli ultimi mesi dell'anno, perché le liste si è già a settembre-ottobre, quando mancano tre mesi, in casa mia, poi non so. Quindi, ha tante discrepanze, tanti problemi, tante lacune, questo premio, ma, nonostante i problemi, è un premio che a livello mediatico interessa molto, ai giocatori, prima, e anche a noi fan, ai tifosi, e così via, dopo, o prima anche, beh, dipende dal punto di vista. Detto questo, ci vediamo a prossimo, che sarà questa da, come sempre a Forza Juve, e speriamo che riportare, magari il prossimo anno, visto che non hanno dispari, il 2019, una bella Champions League a casa, così oltre a noi, facciamo anche contento il buon Ronaldo, che continuerà a vincere questo pallone d'oro, ma poi ovviamente vedremo quello che succederà. Forza Juve alla prossima, ciao!